Oh, Zarischi, è la mia fortuna, Zarischi, perché? Perché nel 69-70, cioè alla fine del 69, all'inizio del 70, dicembre, gennaio 69-70, Zarischi viene a fare delle conferenze a Roma, lui da ragazzo era russo, ebreo russo, ebreo russo, tu già quanti, vedi Zarischi, ebreo russo, Erstein, ebreo polacco, Jez, abbiamo detto ebreo polacco, Buxpau, ebreo tedesco, scappato, poi Schwertfeger, ebreo tedesco, scappato e andato là, tu capisci che io tutta sta gente, tutti questi ebrei mi hanno adottato e non era facile, solo che questi erano spregiudiziati, non guardavano quello che era più potente, no, loro guardavano intelligente, allora Zarischi fa delle conferenze, e intorno a lui si crea un nucleo, vedi quei ragazzi là, sono giovani, insomma giovani, giovani di 23-24 anni, di 5 anni, si crea un nucleo, e poi lui, siccome lui da giovane aveva lasciato la russa, erano in Italia, ha imparato l'italiano e ha studiato la matematica italiana, perciò era l'unico che conosceva la matematica italiana, poi è andato in America, in America è diventato il boss, poi era un uomo di grande, ha scritto libri, c'è tutta una biografia sua, è un personaggio, ha fatto la scuola americana di matematica, di geometria algebrica, lui è proprio il boss, il numero uno, non c'era nessuno, ecco, allora che succede? Lui aveva sposato un'italiana, conosceva l'italiano, amava l'italiano, che vuoi Roma, come fai a non amare Roma? Uno straniero che viene da fuori, che conosce l'arte, non ama Roma, come fa? E allora a lui gli piaceva andare per esempio a Trastevere nelle trattori ole a mangiare, e allora intorno a lui si è formato questo nucleo, e noi andavamo con lui, e c'era questo rapporto, parlavamo italiano, lui si è proprio stato amato tanto da noi, dai nostri amici, allora però, diciamo, lui aveva contezza che a Roma non studiavano in modo avanzato, poi lui faceva sì delle conferenze, ma non erano troppo avanzate, lui, tu lo vedi di là, lui ha più di 70 anni, non tutti si mantengono bene, diciamo, e allora c'era questo legame tra di noi, allora intervengono due fatti, uno, che una volta questi giovani gli dicono, a un certo momento questi qua gli dicono, vede professor Zarischi, a Roma non si può fare una scuola di geometria algebrica, perché i professori non sono, compreso Beniamino Segre, che pure era un grande, e questi non è che si può, invece lui pur essendo anziano, lui si era rinnovato, aveva scritto un libro con Pierre Samueli francese, cioè un libro con un francese, in cui faceva algebra commutativa, cioè lui si era rinnovato, invece Beniamino Segre no, eppure l'età erano tutte e due vecchi, tutte e due eccetera, capito? E allora dice qui a Roma non si può fare e lui gli ha detto questa frase, dice ma no, badate, voi avete Mario Fiorentini, fate quadrato intorno a lui e vedete che voi potete lavorare, mamma mia, mamma mia, questi si sono messi con me, sono diventati i miei collaboratori, si sono messi proprio con me, proprio hanno fatto corpo insieme a me, hai capito? Cosa che non, insomma non era prevista, non era, capito? Prima cosa, seconda cosa, uno dei motivi perché lui aveva con me ha avuto un bel rapporto, era questo, tu sai che lui è stato il maestro dei matematici americani e c'era un matematico americano, David Gorenstein, che aveva fatto la tesi con lui, ancora, e allora però a un certo momento nella letteratura viene fuori gli moduli di Gorenstein, gli anelli di Gorenstein e non nel senso che aveva fatto con lui, ma in un senso più legato all'algebra e che lui non aveva, non era stato lui l'iniziatore e allora lui non sapeva rendere conto, ma come mai Bas parla degli anelli di Gorenstein e non sono le cose che ha fatto con me che era di geometria, era di algebra, era proprio omologica, era di algebra omologica, capito? Perché era un campo più difficile e allora lui non ha capito, insomma era un po' perpreso, non sapeva, diceva, ma questo è Gorenstein, lo chiamano Gorenstein, ma questo è allievo mio, ma non risponde a quello che aveva fatto con lui e io gli spiego dico chi era Gorenstein, io sapevo perché ero esperto di algebra omologica, hai capito? E allora gli ho risposto, dico, guarda, hanno chiamato Gorenstein, però Gorenstein non c'entrava niente, difatti Gorenstein è stato intervistato da David Eisenbud e lui, a David gli ha detto, guarda, non è che io non ho fatto gli anelli di Gorenstein, ma io non so che cosa solo, perché era un contesto completamente diverso, hai capito? E allora lui è rimasto molto sorpreso che io, insomma, ero uno, poi per fortuna, e qui c'è stato il mio, sì, sì, il mio amico Lasco, che lui ha incontrato lassù, a un certo momento gli ha dato un lavoro mio, in italiano, allora, quando gli era dato io non c'ero, insomma, Zarischi dà il mio articolo a Beniamino Segre e gli dice, senti Bino, lo chiamava Bino, Beniamino Bino, senti Bino, c'è questo articolo di Mario Fiorentini sugli anelli di Gorenstein, sono, è una cosa che io conosco bene, è che lui, ma questa è una cosa interessante, perché non lo pubblichi? Segre, come gli avessi dato da un calcio in bocca, perché lui nella sua filosofia era che un italiano doveva, non che veniva all'America a dire pubblica Mario Fiorentini, lui almeno non mi pubblicava perché, perché lui aveva la filosofia, se tu lavoravi nella sua, se no lui non ti filava, difatti aveva fatto un lavoro, guardate, ah è simpatico, ma lui aveva quella filosofia, era nato in Piemonte con quella filosofia strutturata in una certa maniera, per cui lui non si occupava dei lavori che non erano fatti da lui, nella sua cerchia, lui non lo faceva, hai capito? Però stavolta Zalischi lo ha messo proprio sulle spalle, lui ha preso questo lavoro, dopo 15-20 giorni mi dai il lavoro corretto, ma correzione di forma e da pubblicare sui rendiconti di Matematica di Roma che era una bella rivista, in 20 giorni etc., e io pubblico un articolo, un bell'articolo grande, bello, difficile, allora cosa faccio? Gli do due note, due articoli ancora, lui fa due note l'incee, allora tu capisci in poche settimane, in 3-4 settimane escono 3 articoli miei, le note l'incee erano una rivista importante, andava in tutto il mondo, allora poi era molto più importante da adesso, adesso c'è una proliferazione di riviste che invece i lincei una volta era, diciamo, e allora escono 3 articoli miei, capito? Nell'arco di poche settimane etc., allora io comincio a diventare qualcuno, non so più nessuno, mi ha cambiato la vita? Certo, certo, se non era per quello, io non vincevo il concorso e forse schiattavo, perché io ero sottoposto a una tale pressione che potevo schiattare, mi arrivava un infarto, perché ti rendi conto tu che significa un concorso a cattedra, i lavori, è una cosa fenomenale insomma, capito? io potevo schiattare, però potevo non farcela, e qui c'è il punto però, nelle cose che avevo fatto, dice, ma se tu schiattavi eri qualcuno? Penso di sì, ero qualcuno lo stesso, perché le cose che avevo fatto erano nuove, io avevo aperto degli scenari, hai capito? si vede, adesso i coreani stanno lavorando sui lavori miei da allora, i coreani, ma i coreani non esistevano come matematici, non esistevano, i coreani cominciano adesso, 5 anni fa, i giapponesi 50 anni fa, i vietnamiti 30 anni fa, ma io in Vietnam sono famoso come un… perché i vietnamiti sono i miei allievi, i miei cosi… che succede? C'è il concorso a cattedra di geometria superiore all'Università di Ferrara, due cattedra di geometria superiore le Pisa e Ferrara, perciò è un posto ambito, molto ambito, è il quattro anno, capito? Io mando la mia richiesta, però quando io mando la mia richiesta non c'erano lavori a stampa miei, perché i concorsi italiani erano così, bandito nel 68. entro 45 giorni bisogna presentare i lavori, dopodiché vengono esaminati i lavori, non quelli che vengono dopo, invece io sono venuti dopo, non se ne sono accorti, forse se avessero fatto ricorso qualcuno, forse… difatti c'è stato un tentativo a me di non farmi prendere come professore, cioè se io non andavo a Ferrara e invece rimanevo e dovevo andare a Bari, dovevo essere stato fregato il loro candidato, hai capito? Potevano pure non chiamarmi, teniamoci che facciamo adesso delle ipotesi, capisci? Poi ti darò proprio, anzi pubblicheremo la pagina dove ci sono, quando io mi sono presentato al concorso ci sono tre lavori, alcuni lavori miei, per esempio quello in cui ho vinto il premio, ma non erano di ricerca, erano di letteratura, non di ricerca, hai capito? Allora… e poi non pubblicati, però l'Italia è un paese strano come al solito, ci sono delle cose… c'era una legge in cui diceva che in Italia perché i libri, cioè perché i valori contassero, occorreva che fossero stati presentati alla società degli autori entro una certa data, bastava che tu l'avevi presentata perché quella era una… invece no, negli altri paesi agiscono se i lavori sono recensiti, sono pubblicati in riviste, all'ufficio postale, all'ufficio prefettizio, hai capito? Era una… insomma, le leggi italiane erano… però per fortuna per me sono andate bene, hai capito? Ecco, allora che cosa è successo? Che ciò che avevo mandato in poco tempo si era arricchito, poi dopo quando hanno… diciamo così, a un certo momento… poi un'altra cosa che proprio non ci si aspettava, io con Buxbau, quando ero con Buxbau, avevo fatto, ho inventato una nuova nozione, quella che poi ha dato luogo agli anelli di Buxbau, ho inventato e nel maggio del 71, perché io ho inventato il concorso dal novembre del 71, il journal of algebra, cioè la rivista algebrica più importante al mondo e credo che a quel tempo nessun italiano avesse mai pubblicato, forse uno ce ne dà la mano, non lo so, insomma, o uno o nessuno, pubblica un mio articolo, è la fine del mondo, è la fine del mondo, tanto perché è un articolo che nessuno capisce, ci sono venuti anni per capirlo, hai capito? Esce questo mio articolo sul journal of algebra, allora lo capisci? Benavino me ne ha fatti pubblicare tre, me ne arriva un'altra, altre cose che avevo fatto con Grebner, eccetera, io ero già uno, insomma, era un matematico, non avevo confrontabile con gli altri candidati, diciamo, ero di una qualità superiore e se no non avrebbero fatto, dovevo essere proprio superiore, no, cercavano di mettere gli allievi di qualche professore, capito? Di qualche professore e allora io vinco il concorso e vado a Ferrara e poi arrivo a Ferrara e faccio il film, perché i miracoli di Ferrara miei sono ancora in parte da scoprire, come mai Ferrara in tre anni diventa un centro mondiale? Eh, te lo devi chiedere, perché tu capisci, io ho fatto il sorpasso di Pisa e di Roma ed è incredibile come con pochissimi studenti, capisci che Ferrara c'aveva 15-20 studenti, in Roma c'aveva 800, eh allora con 800 la fai la te lezione, ma con 15-18 studenti che poi non avevano un background forte, venivano da professori di scuola media, non erano quello che abbiamo fatto noi, è una cosa proprio che gli studiosi insomma che sono entrati un po' se lo chiedono, com'è stato possibile? Perché è stato un grande merito di Tomassini e mio, in geometria, subiamente, però anche il concordanza di fatti che erano immaginabili, capisci? Perché tutto è andato proprio nel senso nostro e poteva non andare, bastava se non arrivava l'articolo dell'America per esempio, del giorno fa, perché poi, ascolti, alcuni anni fa, è venuto, perché Buspano poi è diventato italiano perché è venuto in Italia tante volte, è tutto, bravo insomma, è venuto alla terza università, ha fatto una conferenza, poi insieme abbiamo preso, siamo andati alla stazione insieme e allora io a un certo momento a Davide gli ho detto, Davide, gli dico senti Davide, ma quando io ho vinto il concorso, io ho vinto il concorso perché è stato un atto di fede che tu hai fatto nei miei confronti, non per merito mio, tu che mi hai conosciuto e sai, questo è uno che conosco io, questo è uno che vale, sempre, il lavoro non lo conosceva bene lui, non lo sapeva bene perché erano cose nuove, la madre madre è sempre conosceva, e allora dice, ma è stato un atto di amore tuo verso di me, è stato un atto di fiducia, è anche giusto, Mario ma che stai dicendo? Il tuo lavoro lavoro è stato dato per il refere, due refere, è stato dato a un matematico di grandissima qualità che ha fatto una relazione e ha detto che il tuo lavoro era importante e giusto di essere giudicato, pubblicato, nonostante che io ero un novizio, non ero uno che aveva scritto altri articoli, insomma che poteva in qualche modo, poteva in qualche modo, ma no, c'è stato un matematico di qualità, di grossa qualità, io poi credo di aver capito chi era il matematico però, perché il referee non lo puoi sapere, non puoi sapere, però io penso che sia stato Auslander, uno, insomma un grande algebrista che aveva capito il mio lavoro, che poi ci sono voluti anni prima di capirlo e chi l'ha capito, e questa è un'altra bella storia, i paesi dell'Est, non l'hanno capito, anche perché le mie recensioni erano in tedesco e allora non le legevano, invece quelli dell'Est, te l'ho raccontata la storia delle due università, Lipsia e Halle hanno capito l'importanza e subito mi sono venuti, eccetera, io ho tenuto a bada, però poi sono venuti da me, una volta, due volte, tre volte, sono diventati di casa, dopo, però uno non me l'ha perdonata, ha scritto un bellissimo libro, ci sono trenta pagine che sono fatte sulle cose mie, non ha messo il mio nome, ha cambiato nome, proprio ha cambiato il nome, capito? Perché tu una cosa, come dici il simbolismo, il liberty, dalla parte lo chiami l'art nouveau, e art nouveau e liberty sono la stessa cosa, però, diciamo, hai capito? se tu dici l'art nouveau, di tal dettaglio, eccetera, ecco, allora, diciamo così, ecco, un momento, il concorso, hai capito? C'è stato questo concorso strano, perché quando io ho fatto la domanda, non avevo una probabilità su mille di vincere, perché non avevo lavori, primo, eh, sono venuti dopo i lavori, c'avevo attenzione, c'avevo lavori di letteratura, per esempio, dall'analismo, dall'analisi matematica, quello era un lavoro di storia, ma non era il lavoro dei teoremi, perché la matematica si vede con i teoremi, quello è il banco di prova, i teoremi che hai fatto, no che fai bella letteratura, beh, letteratura puoi sempre fare, sei una brava persona, eccetera, hai capito? E allora quando io mi sono presentato al concorso e quello anche ti può dire perché ti sei presentato al concorso avendo una probabilità su mille, adesso ti dico una cosa che forse non ti dovrei dire, tu capisci, tu pensa a me, io ero sottoposto a una pressione, perché io parlavo con i grandi matematici e ci parlavo a viso aperto e venivo considerato e loro mi consideravano uno dei loro proprio e non ero nessuno, perché non potevo pubblicare, come fai a pubblicare? Poi ti racconto altre storie, eccetera, hai capito? E allora in qualche modo temevo di non farcela, dico io adesso a un momento crollerò, perché io insegnavo, andavo a scuola, dovevo fare lezione, i ragazzi, tieni tu 30 studenti di istituto industriale per meccanici, vai a tenere 18 ore di cose, eccetera, capito? Perciò io a un certo momento quasi non ce la facevo più, è stato come un grido, guardate che ci sono anch'io, capito? Difatti loro in un primo tempo, diciamo, hanno capito che io ero una persona di qualità, ma non avevo i lavori, poi arrivati questi cinque lavori in poche settimane, poi tutti i lavori di grande qualità, capito? Poi c'è il dopoguerra, poi il dopoguerra, intanto l'ASCU, noi ci vediamo su, c'è tutta una storia su, perché poi ci sono altri personaggi, la riprenderemo su in un altro contesto, però con l'ASCU nel 72, io ho vinto nel 71, nel 72 pubblichiamo un articolo sugli annali di Pisa, gli annali di Pisa era mondiale, insomma era una cosa, allora Pisa era, ancora Pisa è il numero uno in Italia, no? Pisa, la normale di Pisa, eccetera, però allora pubblichiamo questo lavoro, ed è un lavoro di prima qualità, eccetera, eccetera, però nel 72 lo pubblichiamo, diciamo così, poi ti ho detto, l'ASCU diventa professore in America, lascia il lavoro e viene a lavorare con me, e con me facciamo dieci lavori, pubblichiamo dieci, a partire dal 72, cioè pubblichiamo più di, cioè facciamo più di dieci articoli, ma ne pubblichiamo in riviste dieci, eh, dieci articoli, sono cose poderose, alcune cose ci vogliono due, tre, quattro, cinque anni per fare un articolo, vai a vedere la, la difficoltà, se tu la fai leggere, prendi un professore qualsiasi, vai a Roma 1, Roma 2, Roma 3 e prendi specialisti della mia materia e gli fai leggere quella, gli fai sudare sangue per capirli, poi alla fine tutti in inglese sono praticamente dopo, dopo, alcuni in italiano all'inizio poi in francese e poi in inglese.